Ciao a tutti signori, il mio nome è Fengbin e oggi sono qui su questo gioco strano che Shokzokzok come cazzo si chiama ha comprato dove non ho ben capito cosa fare perché a malapena riesco a tenere un controller in mano quindi devo sbagliare i tassi comunque c'è scritto entro in mei per un triangolo ok siamo qui non so capito esattamente dove sono oh ciao c'è anche la mia sorellina di bella ciao cosa devo fare cosa cazzo guardi? oh ma cos'è sta roba? ah purificare totem? cosa devo fare per motore 1? vedete via che è difficile ho le unghie lunghe quattro metri mi sono anche fatto la manichure cosa cazzo è possibile? fatto ma cos'è sto rumore? oh una aria sono in ogni cipolla sono in lena come va qui? si dà una mano cosa è stupacchia di cuore? no? c'ho paura ahhh mi devo nascondere credo di si io mi nascondo qui dentro oddio non c'è nessuno non appazzentare posso dire mi amo questo dannatissimo schifo allora devo di parlare questo dannatissimo schifosissimo mi devo non scappare devo ritornare subito all'avolo perchè avevo detto che prendevo 30 minuti di pausa e sono già passati 4 ore quindi devo fare subito le cose dai io venivo anche voi cos'è meno mi do uno sconto di 50% ma blu to strozzo come osi ma non l'ho fatta a porta ma vaffanculo l'ho fatta a porta allora gritto così in pali blu to troio aha mole chi è quell'essere? oddio un uomo con un bacette meglio che mi indica a soggere il natore prima che arrivi ho qualche puntata anche io però non devo scaccolarmi ogni volta per far un generatore spero che quello stronzo non mi segua perchè io sono molto veloce hm oh dove cacchio sono? sono una specie di bello vecchio dato male hm peggio della mia cucina cerchiamo in questa cazza vedo un po' si riesco a trovare tipo un uoco o qualcosa del genere per pensare di dare il testo a quell'essere cos'è? cos'è? oh una traccia letterica molto utile cosa devo fare? devo illuminare la strada per per il motolo eh? oh vai giù palletto oh un altro testo blu blu va bene un altro una mia amica è riuscita a farle un generatore senza farlo esplodere brava sono lì ahhh clitto 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 sponcitele sono cinese? ahhh sei molto no io tec stupi ahhh se mi tocca tu vieni qui cignole che ti culo non può essere qual è? ahhh un po' più ahhh aiuto non mi uccidele non mi dispiace per aver rifilato quel calzino sporco dentro il suo tortino ma mi dispiace non volevo volevo solamente facevo solamente il mio lavoro mi nascondo chi dentelo help me non cicale tolto ahhh che culo no non tocca gli dentelo ma torna il dentelo oh che culo sei andato? sii che culo sono scappata devo trovare un altro generatore per liberare questa tannatissima nota oh eccolo lì lì di qua li salvo io oh guarda un altro essere in molto quello là è il mio vecchio cliente ha ordinato solamente un appino medio e io gli ho dato per sbaglio il whisky è per questo che è diventato più ubriaco del solito è per questo che coppa la calza e senza morire la 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 oh porco Zeus no non mi avrete mali non mi avrete spero che Shox non veda io che sto giocando oh è andato a infilzare il tizio ma ha scappato che culo meno male che le mie toti di meccanica sono molto avanzate ne voglio uscire ad attivare questo schifo e togliere via tutte queste schifesse che c'è non ci sono perché mi non ha chi c'è vai via non ci voglio che succede poco Zeus poco Zeus aiuto dovrò scendermi che succede cosa c'è abbassa cosa abbassa la crista oddio mi segui lui non me oh che culo aspetto lo posso salvarlo guarda infazzo la lealtà stronzo sono malvagia ho la torcia ho la torcia pastalda la mano mi segue ho poco nevo 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 non posso non posso illuminare la strada ma fa culo puttana accettati ma non sei cieca ho vantaggiato è vero che questa c'era fatta mia madre aiuta me l'ho manchiso dai se mi liberi ti do scadere 100% per la prossima per il prossimo giocavito ti prego non posso morire così no 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 pezzo di malda ma dai madonna mi ripinzato come pezzo di carne appena lavato pronto ad asciugare no davvero davvero schife suole dovevi lasciarmi stare mi fa male il dito con il pollice per sbaglio volevo schiacciare una patata ma alla fine non ci sono riuscito e mi fa male tutto il dito adesso mi riesco non ce la faccio per me per sempre it's dai sorellina aiutami per favole almeno tu ti prego ok il mio cliente è morto non posso morire così ti prego per favole no cazzo non sapevo che dovevo tenere il livello non dovevo prendere il livello sicuramente vabbè quando farò tante ore non chiedete sono il cazzo tuo il mostro non mangerai non gli ho fatto perdere il puto a sto a sto shock poverino voglio dire sarà tutta colpa mia vabbè dai per scusarmi io fino al plazzo oggi meglio che scappi ragazzi cioè è meglio che scappi perché altrimenti se lo trovo mi uccide alla prossima ciao ciao